saltare pronta ad accogliere la ventunesima edizione di saltarua qual è il programma quattro palchi musicali come sempre ci saranno tre concerti in contemporanea sul palco sulla scalinata ci sarà una formazione molto internazionale il penna billy social club quindi uno viene da penna billy un altro viene da cuba e il terzo viene da argentina gli altri concerti sono un trio di con frank silvere che italo americano che ha girato il mondo per 50 anni lui presenterà un programma di swing tipo frank sinatra alla terza opzione molto molto al femminile è una signora che viene dalla toscano che fa un connubio tra fisarmonica tradizionale antica antiche melodie e la musica elettronica quindi ci sono poche donne purtroppo questa volta non è colpa mia però questa è veramente una sorpresa sarà possibile mangiare bere di avere varie scelte tra menù piadine dolci caffè birre artigianali la pro loco si è fornita e pronta l'evento comincia alle 19 e 30 con la partura delle stands e poi ci sarà anche una mostra nella galleria degli artisti chiamiamo così il nostro mercato coperto medievale fabio in questi giorni avete dovuto gestire anche un imprevisto dato che fiordaliso ha avuto un problema di salute si ha avuto un problema di salute come c'è scritto un po sui giornali sui social eccetera anzi gli faccio tanti in bocca al lupo e lei c'ha anche risposto con un audio molto carino alla pro loco di saltara che però proprio non ce la faceva probabilmente fino al 14 deve stare in ospedale eccetera per cui abbiamo lavorato insieme alla pro loco per cercare un artista in questi pochi giorni e marco ferradini ci sembrava proprio un artista ideale che con la sua chitarra ci porta la canzone teori anche la canzone teorema che è una pietra miliare della musica italiana inoltre ci sarà anche una band conosciuta sì la band conosciutissima la dino gnassi band dino gnassi del maurizio costanzo show con dei fiati insomma otto musicisti che fanno veramente qualsiasi genere musicale in questo caso prevalentemente canzoni d'autore italiane anche internazionali oltre ad un altro noto personaggio locale sì sì mi danno il permesso di dirlo anzi gli fa piacere la pro loco di saltare appunto che ci sarà come pianista anche claudio morosi claudio morosi il finalista di the voice senior a che ora inizierà il concerto in piazza il concerto in piazza inizierà alle 10 un quarto circa si prevede tantissima gente per cui è stata proprio organizzata una navetta che fa da spola tra calcinelli dove ci sarà il parcheggio al bocciodromo fino a saltara